...che i commissariati della squadra motile raggiungono, è rischio sempre di fare tutta l'attenzione che nella provincia di Poggio e nel dipartimento per volontà del capo della politica del territorio della provincia poggiana, come altre ce ne sono state, come altre ce ne saranno, l'attenzione del dipartimento sul territorio poggiano ad ogni livello di attività criminale massima e quindi... Grazie Grazie Grazie